I nostri clienti che abbiamo più esigenti sono i bimbi, che anche loro hanno bisogno di rispecchiare anche un po' la moda, anche spesso i genitori richiedono un taglio particolare che va di moda e lì diventa un attimo un po' più difficoltoso perché spesso volentieri entrano con un certo timore, alcuni non sanno cosa si aspetta, alcuni sono magari stanchi dell'asilo, loro non hanno voglia per cui si deve ricorrere con un po' di psicologia, un po' di tatto, per cui usiamo la tecnologia che ci offre il telefonino, l'iPad, oppure possiamo mettere loro le mantelline con i loro personaggi di cartoni animati e si cerca di eseguire a loro il taglio che è richiesto generalmente dal genitore e anche da loro stesso, poi vanno di moda anche questi disegni dei laterali fatti con le lame.